Oggi riteniamo che sia una delle giornate più importanti che abbiamo per quanto riguarda la formazione. Ci sono molte cose che non sapevo soprattutto le nuove tecnologie. Non appena andremo in campo le mettiamo in atto. È giusto fare dei corsi come questo se si vuole essere a passo con i tempi. Durante la stagione fermarsi con la macchina è un vero disastro perché non dimentichiamo che la macchina soprattutto la macchina raccolta lavora circa 20 giorni l'anno. Non avere tempi morti in questi 20 giorni è importantissimo. Fortunatamente guasti improvvisi non ce ne sono mai capitati proprio grazie alla manutenzione prestagionale. Nella stagione morta bisogna fare riparazione per poter evitare poi problemi durante la campagna. Noi l'abbiamo sempre fatto e continueremo sempre a farlo. La differenza tra un ricambio originale e uno di concorrenza la sanno tutti e la durata. La qualità è superiore, durano di più e sono più affidabili. Non ho mai rischiato di andare a prendere ricambi non originali per poi stare fermo. L'uptime service è un servizio indispensabile. New Holland è sempre stata molto molto attenta per quanto riguarda anche la velocità e la disponibilità dei pezzi di ricambio. Addirittura una volta ho rotto un serbatoio e un corriere dedicato mi ha consegnato il pezzo in giornata. Il cliente non ha avuto nessun fastidio tranne qualche ora il pomeriggio quando si è rotto il pezzo fino alla macchina che l'ha messo in campo. Ero subito pronto per lavorare. Quando si è parlato della control room sono stati tutti e tutti molto molto attenti e hanno anche capito effettivamente l'utilizzo e i benefici potrebbero averne. Tutte le macchine dotate di telematica sono costantemente monitorate dai nostri tecnici. Quando c'è un codice giallo c'è già un primo allerte che viene trasmesso al concessionario di riferimento. Il concessionario viene allertato e quindi si riescono a prevenire quelle che poi possono determinare un fermo macchina. Avere le macchine connessa alla control room ci permette di aiutare i nostri clienti ad ottenere sempre il massimo delle prestazioni. Noi della control room siamo i loro angeli custodi. Così che noi possiamo fare il nostro lavoro serenamente. Il futuro appartiene a quelli che si preparano oggi. Il futuro noi lo vogliamo vivere da protagonisti per dare ai nostri clienti il massimo della soddisfazione e della produttività.